Brad Pitt e la nuova fiamma, la differenza d'età fa infuriare Angelina Se i rumors fossero confermati, la depressione post-strottura di Brad Pitt sarebbe già guarita da tempo. . Tra le colline di Los Angeles infatti corrono già diversi pettegolezzi sull'ex love story più amata di Hollywood e sembrerende proprio che il sex symbol abbia trovato una sostituta ad Angelina Jolie. . Il suo nome è Ela Purnell ed è giovane, anzi giovanissima, a soli 21 anni ha già recitato in diversi film tra cui Maleficent, nel cast con Laura Jolie, e Miss Peregrine. . L'attrice ha solo 5 anni in più rispetto al figlio maggiore della coppia, Maddox e sarebbe proprio questo il motivo della disapprovazione di Angelina Jolie. . Brad Pitt di nuovo sulla piazza. . Secondo quanto affermato da alcuni rumors, il sex symbol più ambito di Hollywood sarebbe di nuovo sulla piazza, dopo il periodo di crisi post-separazione con Angelina Jolie. . Nei mesi scorsi Brad Pitt si è rimesso in forma disintossicandosi dall'alcol e cercando di ritrovare un suo equilibrio personale. . A quanto pare sarebbe già riuscito a dimenticare le sofferenze causate dal rapporto con la Jolie, lanciandosi in un nuovo amore con un'attrice. Fino a qui sarebbe tutto regolare e la Jolie potrebbe anche essere felice di sapere che l'uomo con cui ha costruito una famiglia sia uscito dalla crisi, se non fosse che la nuova fiamma ha 21 anni, solo 5 in più rispetto al loro figlio maggiore. . E la purnella è una timida, ma sensuale castana con gli occhi nocciola di origini britanniche che sembra aver conquistato il cuore del tenebroso Brad Pitt. . È conosciuta per aver recitato il Miss Peregrine e il Maleficent, riscuotendo un notevole successo, ma la sua carriera ora è tutta da scrivere. . . A quanto pare lei e Pitt si sarebbero conosciuti sul set dell'adattamento televisivo del romanzo di Stefanie Dunler, Svetbitter che diventerà una serie tv. . . . . . . . . . D'altronde è già passato più di un anno dalla fine della loro storia d'amore e in questi mesi entrambi gli ex coniudi si sono impegnati per ricostruire prima di tutto le loro vite individuali e in seguito anche quel che rimaneva della loro coppia. La Jolie infatti avrebbe fatto nei mesi scorsi un passo verso l'ex marito, affermando che era pronta a perdonare qualora lui avesse capito i suoi errori. Una risposta ufficiale di Brad Pitt non è mai arrivata ma forse, l'attore ha deciso di attendere fino ad ora per fare sapere a tutti la sua posizione. Grazie per la visione!